Buonasera Presidente, buon lavoro a Trump, sempre mi piace averla alla sua paletta. Buonasera Presidente, buon lavoro a Trump. 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 Signor Presidente della Repubblica, dopo sei mesi ci onora ancora una volta della sua presenza e lo fa nuovamente in quest'Aula, in occasione della cerimonia di intitolazione a Giovanni Falcone e a Paolo Possedini. Saluto anche il Ministro dell'Interno, il Ministro della Giustizia, il Vicepresidente del CSM, tutte le altre autorità, i presenti e in particolare gli studenti. Rivolgo il mio deferente saluto al Signor Presidente della Repubblica, a tutte le autorità e ai familiari delle vittime della mafia. Il tributo che noi oggi dedichiamo in questa solenne cerimonia a Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino non è soltanto il riverente ossequio alla memoria di due eroici magistrati. Esso riassume il riconoscente sentimento dell'intera nazione nei confronti di tutti i servitori dello Stato che caddero per mano della criminalità organizzata e dei terroristi nell'adempimento del dovere. E tuttavia, come ogni nazione è rappresentata da una bandiera, anche questa lunga schiera di martiri è personificata nel modo più significativo da queste due vittime della violenza mafiosa, perché vi è un lungo tempo riassunto nella dedica breve scolpita all'esterno di questa auta osera. Ci attacchi. Grazie. 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 Grazie a tutti